Qual è il lavoro domestico che odiate di più? Stirare. E se vi dicessi che da oggi potrete stirare in pochissimo tempo, consumando il 70% di energia in meno, senza far nessun tipo di fatica e restando comodamente sedute? Tutto questo oggi è possibile e ha un nome, Elna Press, la pressa da stiro creata dalla tecnologia di precisione svizzera. Si accende ed è subito pronta, vapore incluso. 50 kg di forza pressione per garantirvi una qualità impeccabile. Non serve nemmeno regolare la temperatura giusta, si appoggia su qualsiasi superficie e in pochi secondi, comodamente sedute e con poche pressioni, stirate facilmente qualsiasi tessuto. Potrete stirare una montagna di biancheria in men che non si dica e soprattutto con la qualità che avete sempre sognato. E la fatidica camicia? Bastano veramente pochi minuti perché con Elna Press stiri le maniche da entrambi i lati. I polsini, lo sprone, il colletto, il dorso, anche quello con le pense, il petto e attenzione, anche intorno ai bottoni senza più dover fare il classico slalom di precisione con la punta del ferro. Non butterete via più nessun capo rovinato dal vostro ferro da stiro, per temperature sbagliate o per quel fastidiosissimo effetto lucido. Come fare per averla? È semplice, basta chiamare il numero che vedete e fissare gratuitamente, senza nessun impegno d'acquisto, la visita di un incaricato per una dimostrazione a casa vostra, negli orari a voi più comodi. Potete acquistare la vostra Elna Press con piccolissimi importi mensili, meno di un caffè al giorno. Ma perché non provate a cambiare vita? Perché non provate ad eliminare la fatica di stirare? Ricordate, con Elna Press, stirare da oggi è facile, veloce, piacevole. Perché non farete più fatica? Perché stirerete da sedute? Allora, chiamate adesso e diffidate delle imitazioni.